La settimana scorsa abbiamo fatto ascolti ridicoli, molto ridicoli, nel senso di si rideva. Sì, ma in quel senso, ma ridicoli, buoni, ridicoli, detta così. E per parlare di ascolti abbiamo in carne e ossa il direttore dell'Audio. Non sa niente. Buonasera. Buonasera a voi. Buonasera. Non sa niente. Nella nostra commissione com'è che sta? Perché sale sempre? Perché ci sono molti ascolti. Molti ascolti. Ma che vuol dire? Sale perché ci sono molti ascolti. La domanda è la stessa. Perché ci sono molti ascolti? Perché sale. Allora, vogliamo sapere nei dettagli. Gli anziani quanti sono? 78%. I giovani? 51%. Uomini grandi ma che si tingono i capelli per sembrare più giovani? 35%. Vecchiette in Menecona? 10%. Casalinghe? 1%. Operai? 61%. Tipi strani? 4%. 4%. La gente che guarda la TV è sposta al negozio degli elettrodomestici. Quello ascolto, non lo calcola nessuno. Ma non è più così. Perché nei negozi sono i negozi. Una volta. Ma quando eravamo piccoli, adesso... Quanto per cento? 10%. Ma come ti esiste? Diplomati? Diplomati sono i figli. Allora io ho un figlio diplomato geometra. Con voti alti. E' attualmente disoccupato. Voi dalla RAI potete sistemare. Ma che RAI? Noi siamo al 9. Non siamo più della RAI. Ma non sa neanche dove siamo. E c'è anche una fidanzata che si chiama Rossana. Numere. E c'ha i capelli 751, 777, 743. No, ancora. Allora, una domanda. I telegiornali, lasciamo la stella perché non sa niente. Fanno ancora ascolto o ormai le notizie si leggono su internet? Fanno ancora ascolto il telegiornale. Allora, è meglio un 5% oggi o un 12% domani? È meglio un 12%. E anche perché domani lo sappiamo, certo. Senta, qual è il segreto di Antonella Cleric? Che è simpatica, molto. Che è simpatica. Numere. Ma numeri di che? Numere, 801. Ma che 800? 859. Antonella, ma... 777. Ma no. 651, 453... L'ultima domanda. Sono arrivate le pizze per qualcuno. Passate la pizza. Vabbè, grazie. No, no, ancora. La domanda è finata. Se un telespettatore muore a metà di un programma, il suo ascolto si registra o si rispetta, per rispetto non lo calcola, oppure fa il 50%? Fa il 50%. Numere. 855, 753, 651. Arrivederci, continui pure. Sì, sì, grazie, grazie.